I metodi di produzione di sale sono essenzialmente tre. Uno, in miniera, da dove si estrae il sal gemma. Questo metodo è quello usato per estrarre il sale rosa dell'Himalaya, che in realtà non proviene dall'Himalaya, ma ve ne parlo alla fine del video. Due, evaporazione dell'acqua di mare, con cui si fa il sale marino, si tratta delle saline per intenderci. Tre, salamoie, si fa scioltere la roccia salina in profondità e la si pompa in superficie. Con questa terza metodologia si fa gran parte del sale da tavola più comune. Andiamo a vedere in cosa consistono queste tre tecniche e poi parliamo del famigerato sale rosa dell'Himalaya, che in realtà viene dal Pakistan. Aspettate, prima di continuare, se ci seguite e non siete iscritti, iscrivetevi perché ci date una grossa mano. A voi non cambia molto, ma a noi sì. Pensate che il 70% di voi che ci guarda non è iscritto, quindi vuol dire che se vi iscriveste al canale potremmo essere più di 800.000, quasi un milione. Grazie mille a tutti. Torniamo a noi. Il primo metodo è l'estrazione in miniera, molto simile all'estrazione di qualsiasi altro minerale. Il sale esiste anche come roccia, composta solitamente da salgemma o alite, cioè minerali formati prevalentemente da cloruro di sodio. Si tratta di depositi salini formati essenzialmente a causa di un'intensa evaporazione di mari antichi. L'evaporazione ha lasciato strati di sale successivamente poi sepolti dalla deposizione di altri sedimenti poi diventati roccia. Come vi ho detto, dopo parliamo dell'origine del sale rosa dell'Himalaya, vi faccio vedere la miniera da dove si estrae. Quindi oggi gli strati di sale si trovano in profondità e noi scaviamo per raggiungerli e molte miniere di sale utilizzano il sistema di estrazione stanza e colonna. Cioè come funziona? I pozzi vengono affondati fino alla base della miniera e le stanze sono costruite perforando, tagliando e creando uno schema a scacchiera. Dopo che il sale è stato rimosso, viene frantumato e trasportato verso l'esterno con un sistema di nastri trasportatori. Di miniere in Italia ne abbiamo diverse, tra cui quella di Petralia, celebre, e poi la miniera di sale in Polonia, che si chiama Wielicka. Oggi questa miniera è un luogo turistico, tant'è che è chiamata la Cattedrale del Sale, perché tutta scolpita appunto nel sale, effettivamente è uno spettacolo. Se vi trovate in Polonia, secondo me è un must. Il secondo metodo è la cosiddetta estrazione in soluzione. Vi faccio un esempio pratico, insomma i capi, per farvi capire di cosa si tratta. Invece di andare giù ed estrarlo, tagliandolo, scassandolo, si iniettano dei fluidi a base d'acqua che sciolgono il sale. Quindi la soluzione salina, o salamoia, viene pompata e portata in superficie. In un impianto per l'evaporazione. Nello stabilimento la salamoia viene trattata per rimuovere i minerali e pompata in vasche sottovuoto. Si tratta di contenitori sigillati in cui la salamoia viene poi fatta bollire, evaporare, fino a quando il sale non viene lasciato. Quindi poi viene essiccato e raffinato. A seconda del tipo, al sale poi vengono aggiunti iodio e un agente antiagglomerante. La maggior parte del sale da tavola viene prodotto in questo modo qua. Veniamo al terzo metodo, che è quello delle saline, che consiste nell'evaporazione di acqua salata. Il sale viene raccolto attraverso l'evaporazione causata dall'attività del sole, dall'energia solare. Il concetto è semplice, il sole fa evaporare l'acqua da delle pozze poco profonde, lasciandosi alle spalle il sale. Di solito viene raccolto una volta all'anno, quando il sale raggiunge uno spessore specifico. Dopo la raccolta, il sale viene lavato, scolato, pulito e raffinato. Deve essere raffinato, perché l'acqua di mare, quando evapora, lascia non solo cloruro di sodio, ma anche sali di calcio, potassio, magnesio, che hanno un sapore amaro. È proprio brutto. Il processo di raffinazione avviene attraverso praticamente un lavaggio con acqua pura in controcorrente. L'obiettivo del trattamento è quello di ottenere cloruro di sodio ad una concentrazione vicina al 100%, generalmente comunque oltre il 99,5%. Il prodotto poi alla fine viene essiccato e commercializzato come sale marino. Questo forse è il metodo più puro per raccogliere il sale, che spesso si traduce in quasi il 100% di cloruro di sodio. C'è da dire che solo quelle aree con basse precipitazioni annuali e con alti tassi di evaporazione, ad esempio i paesi mediterranei e l'Australia, possono avere impianti di evaporazione solare di successo. Mi sono dimenticato della raccolta. La raccolta solitamente avviene una volta all'anno. Ovviamente negli ultimi decenni ci sono dei macchinari che raccolgono il sale, però pensate che in alcune zone la raccolta è fatta ancora a mano. In Italia ne abbiamo, ci sono diverse saline, forse la più celebre è quella di Margherita di Savoia, in Puglia. È antichissima, pensate che addirittura Plinio il Vecchio ne parlava. Al tempo dell'antica Roma già veniva raccolto il sale che si formava naturalmente, senza alcun intervento umano. Le saline di Margherita di Savoia si estendono per circa 20 km lungo la fascia costiera dell'Adriatico Meridionale. Pensate che la superficie totale è di circa 4.500 ettari, di cui 4.000 coperta dalle acque, e quest'ultima è suddivisa in vasche evaporanti, per un'estensione di 3.500 ettari, e vasche salanti, circa 500 ettari. Gli altri 500 ettari sono costituiti da strade, argini, officini, uffici, alloggi, eccetera eccetera. Parliamo anche del celebre sale rosa dell'Himalaya. Effetti benefici sulla salute di ogni tipo sono bufale. Non c'è nulla di scientificamente dimostrato. Dario Bressanini tempo fa ha fatto un video ad hoc sulla bufala del sale rosa dell'Himalaya. Andatevelo a vedere su YouTube, caso mai non l'avete ancora visto. Io in questo video vi faccio vedere da dove proviene. Ecco, la prima cosa da dire è che non proviene dall'Himalaya, ma dalla provincia del Punjab, in Pakistan, e più in dettaglio dalla miniera di sale che si chiama Kevra, la seconda miniera di sale più grande del mondo. Questa miniera è scavata nella formazione geologica chiamata Salt Range. Si tratta di rocce saline, come abbiamo detto all'inizio. In questo caso formatesi da mari poco profondi evaporati, ma mari antichi, ma non antichi di centomila anni o di un milione di anni. Il sale rosa dell'Himalaya, o per meglio dire del Pakistan, si è originato addirittura nel precambriano, parliamo di circa 800 milioni di anni fa. Perché è rosa? È per la presenza di ossidi di ferro. Ruggine per intenderci. Quanto ossido di ferro contiene il sale rosa del Pakistan? La concentrazione può essere variabile. Andiamo da un minimo di 0,24 milligrammi per chilogrammo di ferro a 0,50 milligrammi per chilogrammo. Che significa? Che fa male? No, non fa male. Dario nel suo video vi spiega bene il perché, se non l'avete ancora visto. Ve lo consiglio vivamente. Nel 2006 sono state prodotte più di 200 milioni di tonnellate di sale. Nel 2020 siamo arrivati a 270 milioni di tonnellate. La Cina è il maggior produttore. Figurati, ci sta sempre in segnezza. Con 48 milioni di tonnellate. Seguita da vicino dagli Stati Uniti con 46 milioni di tonnellate. Voi che sale utilizzate? Sale marino? Sale non marino? Andate a scavare? Bene, carissimi amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi do appuntamento sempre qui su Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao! Che si chiama Vielicka. Vie... Vielick... 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 Tu lo sai dire? Vielicka Saltmine.